Si preparavano a banchettare con due cinghiali abbattuti nelle campagne tra Bove e Palizzi, appena macellati e pronti per essere consumati, in una cucina di fortuna ricavata all'interno di un capannone nel territorio di Palizzi. A guastare la festa ci pensano i carabinieri forestali di merito Portosalvo, Bagaladi e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale, NIPAFA di Reggio Calabria, attivati per le consuete operazioni anti-baraconaggio disposte dal Comando Regione Carabinieri Forestale Calabria. Ad insospettire i militari sono stati alcuni automezzi fuoristrada parcheggiati in aree rurali solitamente frequentati da cacciatori di cinghiali. Ma la caccia per questa specie non è ancora aperta, per cui è scattata l'allerta per i militari che, insistendo nella perlustrazione, giungevano nei pressi di un capannone nel territorio di Palizzi, dove, nello spazio antistante, notavano parcheggiato uno dei mezzi fuoristrada monitorati precedentemente. Entrando all'interno, gli operatori trovano conferme ai loro sospetti. Cinque persone erano intente a preparare tutto il necessario per un convivio dopo caccia. Le carcasse di due cinghiali erano già state macellate e sezionate, pronte per la cottura. Inevitabile il deferimento dell'autorità giudiziaria per tutti i soggetti coinvolti, che, fatte salve le verifiche nei vari gradi di giudizio, dovranno rispondere del reato di esercizio di caccia di specie in periodo non consentito ed il sequestro di cinque fucili con un cospicuo quantitativo di munizioni di varia natura. Sequestrate inoltre le carcasse e le carni selezionate, tutte destinate alla distruzione, nonché prelevati alcuni organi dell'interiora degli animali, da sottoporre alle analisi per appurare l'eventuale presenza della peste suina africana, malattia attualmente in diffusione in tutto il territorio regionale.